Nel weekend da Elena Ballerani in occasione della festa della Coppa Italia, vinta nella scorsa stagione dal club di Gino Sirci. A questo punto della tua carriera è arrivata la chiamata di Perugia. Cosa è significato per te? Significa tanto veramente. Sono molto orgoglioso, sono molto contento e onorato di essere qui e fare parte di questa società, di questa città e di questi tifosi che sono sicuramente migliori in Italia. Tra l'altro sono tifosi che tu già conoscevi perché anni e anni fa hai militato nelle file del San Giustino. Sì, è stato il mio primo anno in Italia, a San Giustino. Mi ricordo benissimo. È rimasto tutto dentro di me, è veramente bellissimo. Il nostro campo era sempre caldo, come ogni anno qui a Perugia adesso. Tu sei giovanissimo, sei un giocatore nel pieno della tua carriera. Cosa significa la chiamata di un top team come Perugia per un giocatore come te, così giovane? E' stata la mia мечta, ma io non potevo dire di questo, quindi io ero molto contento, ovviamente. Era il suo sogno da bambino, arrivare in uno dei migliori club nel mondo, quindi era facile per lui decidere di dire sì. Qualcosa in italiano lo sai dire? Fino alla fine forza Perugia? Allora, con il sorriso di nuovi arrivati in casa Sirpeugia chiudiamo il nostro TG Sport e vi aspettiamo questa sera per la seconda edizione del nostro TG Sport.